Diciamo che è un ambiente abbastanza horror, però mi affascina. Ci sono cose da scoprire, ci sono vecchie foto di collegiali, c'è una bambola che sembra Annabelle. A volte stare soli fa bene, serve a pensare. Nicole si prepara ad affrontare la sua prima notte solitaria, ma anche per qualcun altro questa è una notte di confronto. Il fatto che lei sia entrata una settimana dopo è tosto. Io al posto suo sarei un po' in disagio. Che è una bella ragazza, bella bella. In queste prime ore ho legato con Giulia. Noi la guardavo prima che ce l'avevo di fronte e mi pare un trans. C'è troppi capelli biondi. Poi dice, eh no, perché io sono chiara, sì. Ma vaffanculo, ma c'è nero qua. Mi hanno accolta bene. Non è che se una ragazza è bella vuol dire che è sveglia. Senza trucco lento di me, no? Ah, io vedo l'Evra una settimana. Scusate, io pure ero una superstar quando sono entrata qua. Ciao tesoro! La luna veglia alta sul collegio e la notte si dice porti consiglio. Voglio tornare con i miei compagni adesso. Basta stare sola. Grazie. 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 Grazie.